Bisogna lavorare così per ottenere anche le cose, bisogna lavorare con la maggiore intensità possibile anche nel silenzio, poi quando si ottengono i risultati allora li si comunica e soprattutto bisogna lavorare cercando sempre evidentemente di ottenere risultati, magari non sempre possibile ma in questo caso sì, mettendo insieme le realtà, le persone, facendo sinergia, costruendo collaborazioni. Noi siamo convinti che anche dal superamento di questo momento inizia una stagione importante di collaborazione. Noi ce la mettiamo tutta come sempre abbiamo fatto, appunto lavorando con la massima serenità, la massima lealtà, la massima sincerità e il massimo impegno possibile. Nel silenzio, ma molto intensamente. Sono convinto che sia, quello sarà, siamo convinti che quello sarà un fine settimana bellissimo per la città. Questo bisogna dire, sarà un fine settimana bellissimo per la città. Due grandi partite, la partita di Supercoppa e la prima partita in casa della società Vanoni. Ci teniamo quindi a ribadire ringraziamento, anche io ribadisco ringraziamento a Master Group che ha deciso di portare la partita qui, alle due leghe con le quali abbiamo intensamente lavorato, alle due società, entrambe le società, Pomi e Vanoni, entrambe mi permetto di ringraziare anche Novara perché anche Novara è stato coinvolto e anche io, mi permetto di sottolineare che è nato, nasce, continua e si rafforza anche un rapporto con le due società, mi permetto di ringraziare in particolare la società Vanoni e il suo presidente Aldo Vanoni. Certamente il ringraziamento poi si estende a tutte le altre società e pensiamo che sarà davvero una bella stagione insieme, Pomi e Vanoni, per lo sport della città.